una vasta area anticiclonica con massimi sulle isole britanniche estende la sua influenza anche sul mediterraneo centro occidentale mentre un'attiva linea di instabilità interessa i settori ionici in toscana sabato 19 marzo cielo sereno poco nuvoloso salvo temporanei annuvolamenti nelle ore centrali sulle zone interne centro meridionali venti deboli occidentali mari poco mossi temperature minime in diminuzione massime stazionari e un lieve calo sulle zone costiere cielo sereno anche su tutta la nostra provincia a lucca nella piana temperatura minima 3 massima 17 gradi a via legge sul litorale minima 5 massima 17 in garfagnana e zone montane minima 1 massima 18 gradi non